Bene, grazie di essere rimasti in linea con noi, riprendiamo la giornata di oggi con scrivere per una rivista d'arte, partirei da qua. Mentre nella prima parte avevamo un po' verificato alcune prassi eccetera, adesso veniamo esattamente al dunque di queste professioni che un po' si integrano, si mescolano, si contaminano fra loro, perché negli ultimi anni bene o male l'artista fa il curatore, fa anche il curatore, il curatore fa il critico, il critico fa il dealer, il gallerista fa un po' tutto, quindi non c'è più una specificità dei ruoli. Siamo al di là della rivoluzione industriale che c'era l'operaio, faceva un singolo pezzo, qua siamo tornati a dover fare tutto, di nuovo tutto il meccanismo da soli che è complicato. Allora partirei da questa che è la parte più semplice, anche perché ormai nessuno più vuole fare il critico, a quanto pare, è che la scrittura è una cosa complicata, è un po' come la pittura, una bestia che bisogna saper domare. Quindi, innanzitutto, se uno vuole fare il critico, il minimo che vuole fare è scrivere in italiano, perché, insomma, comprensibile, soprattutto se poi c'è anche questa cosa di critico giornalista. Molti giornalisti si pensano critici d'arte, molto spesso invece il critico d'arte non vuole essere giornalista, però comunque se scrivere per una testata di diffusione nazionale, ad esempio un quotidiano, deve comunque limare il proprio linguaggio per comunque comunicare a tutti. Scrivere per una rivista d'arte, quindi comunque una specificità all'interno delle testate editoriali, non è assolutamente complicato, forse è la cosa più semplice che si può fare. Si può iniziare, quando si è giovanissimi, con le fanzine, si fa un po' di esperienza, poi magari si passa a qualche rivista nuova, neonata, ci si autopropone, è molto semplice, si scrive in redazione, gentile direttore, sono un giovane che vorrebbe intraprendere l'attività di critico d'arte. Molto spesso ti chiedono di sottoporre tre articoli per capire come scrivi, qual è il tuo linguaggio, insomma, se un po' lo mastichi anche, oltre che l'italiano, l'arte. A meno che proprio non sei una capra, le riviste d'arte hanno sempre necessità di un bacino molto largo di collaboratori, anche perché le testate nazionali in teoria dovrebbero avere un corrispondente per ogni regione, cosa che non accade mai. Magari ci sono sette, almeno sette se non venti, corrispondenti in Lombardia. In Puglia magari ne hai uno solo, su Roma altri venti, poi sulle Marche nessuno. E quindi ci sono dei coni d'ombra che uno potrebbe tranquillamente riempire. Io ho iniziato proprio così, ho scritto delle testate che all'epoca erano delle ottime riviste, lo sono tuttora, mi ricordo con Arte Critica, che è una rivista di contenuti e non solo di gossip, come invece altre stanno facendo, mi ha chiesto, mandami qualche articolo, leggiamo, gli è piaciuto, ho iniziato una collaborazione. Poi da cosa nasce cosa? Scrivi per questo, poi dici, vabbè, provo a scrivere anche un'altra testata. E questo ha già scritto per quella, per cui è un buon input, è un input positivo, quindi non vedo perché non posso scrivere anche per noi. A meno che non siano riviste che si fanno la concorrenza. C'è stato per un periodo Flash Art e Tema Celeste, non potevi essere in entrambe, dovevi schierarti sostanzialmente. Si odiavano i due direttori, Politi e ai tempi c'era ancora Paparoni, poi è subentrata la Vendrame. Quindi devi anche essere un attimo oculato, insomma, a chi chiedere. E poi, quando hai scritto per due o tre riviste, bene o male, girando le fiere, girando le gallerie, eccetera, le persone ti riconosco, ti chiedono loro, senti, scriveresti anche per me? E dopo un po' ti rendi conto che tu stai scrivendo per tante riviste e non hai più il tempo di seguirle tutte. E quindi selezioni. Io negli ultimi anni scrivo molto poco, anche se la scrittura mi piace tantissimo, perché comunque essere direttore di un museo porta via tantissimo tempo. E quindi ho solo ottenuto una rivista, una piccola rivista, perché poi ci tenevano, collaboravo con loro da dieci anni, mentre tutte le altre ho detto, guardate, mi prendo non un anno sabbatico, proprio un periodo molto lungo sabbatico, finché mi dura la direzione del museo, e quindi avevo tagliato questi rapporti. Alcuni erano dispiaciuti, però capivano le difficoltà. Giusto questa rivista, che lo dico anche a Expo Arte, mi diceva, dai, continua a collaborare con noi, e allora ho detto, guardate, faccio questo strappo alla regola, però visto che ho detto di no agli altri, con voi, insomma, se lo faccio per voi, poi mi namico tutti gli altri. Allora gli ho detto, datemi una rubrica che gestisco io. Ed è una rubrica assolutamente folle, perché alla fine la pagina di destra è un testo e la pagina di sinistra è un'immagine. L'immagine la decido io, di solito è un'opera di un artista, ma non c'è relazione tra testo e immagine. Vanno per altre vie. E questa rubrica, che si chiama Pensieri Albini, sono dei resoconti che io mi invento. Inizialmente, io sono già alla ventesima uscita di questa rubrica, quindi è già diversi anni che la seguo, e inizialmente mi dicevano, Alberto, per la tua prossima rubrica, che cos'è, su cosa scriverai? E io rispondevo sempre, lo scoprirete, perché non lo sapevo neanch'io. Ogni volta mi mettevo il computer senza idee, mi veniva un'illuminazione, come sembra quasi profetica, e mi mettevo a scrivere quello che mi passava per la testa. Sempre riferito all'arte. Ma cose veramente assurde. Io vi invito, io ho carissimi amici che continuano a dirmi, guarda, io compro quella rivista lì perché con la tua rubrica mi faccio delle grasse risate. Perché dico cose serie, ma mettendoci sempre delle battute. Tipo, l'ultima uscita, raccontavo tutta una serie di artisti morti, giovani, in modo assurdo, tipo Gaudì, che era stato investito dal tram, pensavano fosse un barbone, e quindi l'hanno lasciato un po' ai propri destini. Oppure Pascali, no? Che si è schiantato con la moto sotto il passo di Roma, perché uno con l'auto aveva fatto inversione, che non si poteva, e lui si è schiantato contro questo veicolo. E quindi tutta una serie di altri artisti, così morti in modo un po' strano. E chiudevo con questa cosa, che Picasso, dicevo, era morto di influenza durante un attacco cardiaco. In realtà era morto di infarto quando aveva l'influenza, no? Allora, c'era tutta la prima parte seria, e poi questa frase, che diventava plausibile, perché tu non ti rendevi conto che avevo girato la frase, sostanzialmente. E questo è quei divertimenti che mi prendo. Però sono arrivato ad avere una rubrica, perché da dieci anni io comunque scrivevo pezzi seri. scrivevo sulle mostre, nelle gallerie, questo lo dicevo, mi spiace per gli utenti che sono in streaming, ma quando eravamo a pranzo dicevo, fare il critico d'arte ha facilitato diventare anche curatore d'arte, perché recensivo le mostre, andavo nella galleria, guardi, senti, io la informo, che ho scritto questa recensione sulla mostra che avevate in corso, e quindi si crea il contatto, il rapporto con gli addetti ai lavori. Adesso che molti invece vogliono fare subito il curatore, diventa un po' più difficile, perché il critico scrive il comunicato stampa, ma più volentieri scrive il testo in catalogo. Nel mio caso sono rare le occasioni in cui mi corrispondono la parcella per curare una mostra, di solito mi chiedono, mi pagano per il testo che ho scritto in catalogo, va di conseguenza che io faccio entrambe le cose, faccio il critico e il curatore, però in 15 anni, adesso magari le potrò contare su due mani, le volte che mi hanno detto io ti pago come curatore, mi pagavano magari perché non c'era il catalogo, adesso ultimamente infatti c'è meno la smania di pubblicare un documento sulla mostra, qualche anno addietro invece per qualsiasi, anche per la più schifosa delle mostre, facevano sempre una pubblicazione in cui investivano tanti soldi. Quindi questa domanda è quasi retorica, come si fa a scrivere per una rivista d'arte? La cosa più facile, ti autoproponi e il 90% dei casi ti prendono, anche perché non ti pagano. Sono giusto due le riviste che possono pagarti, una è FlashArt, se però tu continui a caldeggiare i rimborsi, mentre l'altra che ti riconosce un fee è la Arte Mondadori. Sono due tipologie di riviste completamente diverse, una è impostata più su, se vogliamo, l'arte di ricerca contemporanea che FlashArt, l'altra comunque ha una diffusione nazionale che credo è la rivista d'arte più conosciuta in Italia, però il livello di ricerca è sicuramente di altro tipo. Io non ho mai scritto per Arte Mondadori, ho un sacco di amici che scrivono per quella rivista, che comunque negli anni è anche cresciuta qualitativamente, però è un'impostazione ancora da, non dico rivista di gossip, però insomma è informativa, forse più divulgativa e meno teorica. Perché a me piace ad esempio una rivista come Tema Celeste? Perché gli articoli, poi ci sono delle immagini, però è molto più il testo e sono delle riflessioni, quindi c'è veramente un apporto teorico, che cosa che sta un po' scomparendo nel mondo dell'arte. I critici battagliavano, discutevano anche al bar, si chiamavano, si vedevano, eccetera. Il curatore d'arte, che è diventato una figura perno, centrale, non discute, non dibatte, non si fanno più i convegni. Uno dei più famosi è stato fatto, credo fossero gli anni 90, Arte e Utopia era stato organizzato dalla Lea Vergine, e forse l'ultimo caso di critici, era solo per gli addetti ai lavori, critici storici dell'arte che si ritrovavano e si interrogavano su dove poteva andare la critica in Italia. Avevano anche pubblicato un libro su tutte le discussioni, Fatalità l'ho riletto un paio d'anni fa, inizia a essere datato ovviamente, perché poi uno può ipotizzare, eccetera, però tutto quello che loro avevano detto non corrisponde ai giorni nostri. Quindi passano vent'anni e le cose sono andate diversamente. Vabbè, l'altra domanda era come opera e come si diventa un curatore e o critico d'arte. Sono domande a cui è difficile rispondere, perché la cosa migliore è fare esperienza sul campo. Questo era possibile fino a poco tempo fa, adesso tutti quanti vorrebbero diventare un curatore e quindi non tutti gli spazi museali o le gallerie si possono permettere di prendere uno stagista, perché gli insegnano il lavoro, poi sanno che questo se ne va e quindi cosa fai? Anch'io al museo ho la stessa problematica. Arrivano stagisti o doti comuni che so che rimangono tre mesi oppure la doti comune può rimanere fino a un anno, però può anche decidere questa doti comune dopo due mesi di andarsene se trova un altro tipo di lavoro. Quindi tu investi energie, investi anche fatica, rubi tempo a quello che devi fare per formare un'altra persona che sai che comunque andrà da un'altra parte. Ci dovrebbero essere figure che non sono il direttore d'arte, che non sono il gallerista o anche il direttore della rivista, insomma, che formano, proprio deputate a formare queste persone. Gli stagisti non vengono pagati. Mi verrebbe quasi da dire che dovrebbero pagare loro per imparare il lavoro perché c'è una persona che effettivamente si dedica a insegnargli, insomma, a cosa c'è da fare. Allora, il critico d'arte che è la seconda parte della domanda più semplice un po' già ho risposto con quella precedente si propone alle riviste attraverso le recensioni entra in contatto con gallerie o musei poi si consolidano i rapporti e lì si iniziano a scrivere i testi per i cataloghi e allora lì si vedono un po' i primi frutti i primi soldi che vengono riconosciuti. Il critico ha l'impegno non solo di essere corretto verso l'artista ovvero si dovrebbe scrivere sempre solo di persone che stimi che apprezzi perché poi ci vuole poco a capire se un testo è stato scritto solo per soldi o solo per altri interessi per fare carriera il testo nel testo traspare molto della persona capisci se gli piace o meno l'opera che ha di fronte è inevitabile che in un anno tutti gli addetti ai lavori comunque facciano delle marchette però c'è marchetta e marchetta si può anche scegliere bene non mi ricordo chi era diceva io quando faccio una marchetta quelle rare volte scrivo anche da marchetta cioè scrivo male così è palese che se mi leggono capiscono che era quel caso lì quindi non vuole fingere perché poi si tende no ma io non l'ho fatto per soldi io l'ho fatto perché ci credevo nell'artista eccetera però poi dopo aver fatto quella mostra quell'artista particolare non lo segue più e quindi a distanza di tempo dimostra che era puramente venale il discorso scrivi i testi per i cataloghi che poi sono questi testi brevi che sembrano quasi assurdi dovrebbero essere dei testi scientifici soprattutto quando si parla di artisti storici dovrebbero ripercorrere un attimo l'iter dell'artista l'evoluzione far vedere come si è sviluppato il lavoro nel corso degli anni informare ed è molto importante nei cataloghi fare le glosse le note a piedi pagina dando i riferimenti corretti quindi una bibliografia che uno può poi verificare e riscontrare negli ultimi anni scusate dico sempre e continuo a usare questa frase negli ultimi anni perché le cose sono veramente cambiate però se fate conto 5 anni fa mi chiamavano scrivi per un catalogo e avevo un mese di tempo minimo potevo anche averne tre di mesi a disposizione per scrivere un testo critico adesso mi chiamano mi dicono Alberto scrivi un testo hai tempo due settimane allora io sono un critico che sta da molto peso a ogni singola parola soprattutto poi come suona la frase li rileggo almeno una ventina di volte i miei testi finché non mi vengono a nausea a un certo punto li imparo anche a memoria ed è il rischio più grosso che si può fare perché poi non si vedono più gli errori tu non leggi più tu lo sai nella tua testa e ti sembra che ci sia scritta quella cosa lì poi non è vero e quindi ti chiedono ti forzano di scrivere in così poco tempo quindi tu hai poco tempo per documentarti verificare le informazioni dialogare con l'artista andarla a trovare guardare dal vero le opere e soprattutto capita che mi chiedono Alberto due settimane ma scrivi un testo di una paginetta e io gli rimango malissimo in una paginetta cosa vuoi che dica piuttosto pubblica il catalogo senza testo critico forse è anche più utile almeno le persone si abituano a guardare a vedere capita spesso che i cataloghi che seguo io iniziano prima con la riproduzione delle opere e solo in fondo c'è il mio testo critico mentre c'è uso di averlo all'inizio io sostengo che chi non ha visto la mostra e si trova in mano il catalogo la prima cosa che fa è leggere il testo o quanto o meno si legge sempre il primo è l'ultimo brano dei testi critici perché così capisci già il tenore se vale la pena leggerlo tutto il problema è che se sei una persona qualsiasi leggi prima il testo quindi ti fai non la tua idea ma l'idea suggerita dal critico che il critico può riferire l'esperienza dell'artista può essere oggettivo ma molto spesso il critico interpreta non riferisce interpreta quindi è come nelle traduzioni nelle traduzioni si perdono alcune informazioni e se ne inventano altre e quindi il motivo di mettere in fondo il testo critico è per abituare lo spettatore l'utente a farsi prima una sua idea e poi a confrontarsi col testo e credo sia molto utile anche se poi non capita spesso lo step successivo dopo la rivista dopo i cataloghi sarebbe effettivamente pubblicare un libro pubblicare un saggio che è fondamentale che poi fa punteggio se vuoi essere docente pubblicare un libro negli ultimi anni è abbastanza facile ci sono molte più case editrici specializzate sull'arte mi viene in mente la Postmedia Book c'è la Joanne Levi ci sono poi un sacco di altre piccole case editrici magari di nicchie che non hanno grosse distribuzioni e quindi li trovi solo in determinati musei il problema è che in Italia molti dei libri che vengono pubblicati sono o raccolte di testi critici che tu avevi fatto che poi cerchi di trovare un tema comune per metterli assieme altre volte trovano dei temi enciclopedici e quindi non sei in grado di esaurire tutto l'argomento in un libro tu dai un'infarinatura cioè le tue ispirazioni sono troppo alte rispetto a quello che poi tu vai a rendere ma la cosa più deleteria sempre dal mio punto di vista è che escono molti libri che vengono speciati per a cura scritti da in realtà non sono altro che delle interviste agli artisti quindi in realtà il libro l'hai scritto per un 20% tu il resto l'ha fatto l'artista il gallerista o quello che vuoi tu che sono i libri sfiziosi da leggere però per un critico uno storico dell'arte non sono i libri importanti scusate se torno sempre nel mio caso specifico ma non potrei fare altrimenti io un paio di anni fa ho pubblicato un libro che si chiama frenologia della vanitas e anche in questo caso l'editore perché mi devi dare un titolo così un libro non si capisce di cosa parla e allora sottotitolo storia del teschio nelle arti visive è un libro di 400 pagine ci ho messo 10 anni a farlo era la mia vecchia tesi di laurea dell'accademia che l'ho sempre portata avanti negli anni per mio interesse a un certo punto arriva questo editore la Giannelli mi chiedono mi conoscevano di fama mi hanno dato un appuntamento hai delle proposte da farci io gli NFC 3 e soprattutto caldeggiavo questa sul teschio perché bene o male materiale già ce l'avevo gli avevo fornito una bozza preliminare quindi saranno fatte un'idea di cos'era questo libro e lo accettarono mi fecero il contratto dovevo finirlo ogni un anno ce ne ho messi due e mezzo però non mi hanno fatto pressioni tanto questo libro che doveva essere di 200 pagine continuava a lievitare a un certo punto mi hanno chiamato Alberto adesso basta lo chiudi ma il problema non era stato solo mio quando mi ero laureato nel 2000 di teschi nell'arte contemporanea ce ne erano veramente pochi ok mi ero incuriosito come mai c'era stata questa questa manchevolezza perché poi giravo le pinacoteche c'erano sempre questi santi con con questo attributo scheletrico allora è da lì è una storia che parte proprio dal dal memento mori dalla vanitas gli affronta tutto il trionfo della morte e arrivo fino ai giorni nostri il problema che quando la tesi era una tesina insomma di 50 pagine avevo continuato a lavorarci era diventata di 100 poi arriva Damien Ears fa quel teschio di diamanti e lì è stata la mia rovina improvvisamente tutti hanno iniziato a fare teschi allora non è che potevo documentare anche il ragazzo di 20 anni che fa il teschio però i più grandi artisti avevano ripreso questa iconografia e quindi io che voglio comunque dare una visione completa anche se non sarà mai possibile esaurire tutto lo scibile però comunque continuava ad aggiungere capitoli cambiare di posto eccetera quindi mi c'è voluta molto a fatica per scrivere questo libro il prossimo probabilmente uscirà fra 10 anni ci sto già lavorando mi prendo il tempo che serve anche perché bisogna comprare i libri bisogna informarsi bisogna verificare è un po' complesso però dà una grandissima soddisfazione una volta che lo pubblichi soprattutto poi quando inizi a vedere che la gente lo acquista e lo legge perché io in realtà avevo scritto un libro precedente che era un breve saggio di 50 pagine era un delirio assoluto su Ampty Dumpty che era il personaggio di Alice nel paese scusate Alice attraverso lo specchio e molti mi hanno confessato che non sono mai riuscito ad andare al di là della quinta pagina e questa cosa mi faceva molto sorridere però era un testo veramente complesso mentre questo libro di 400 pagine scorre molto molto più facilmente sarà che sono maturato sono cresciuto non voglio più fare il critico che uso paroloni per dimostrare di sapere perché c'è anche quel complesso insomma proprio che la mia formazione non è da non vengo dall'università di lettere non vengo dal Dams arrivo da un'accademia quindi da da laboratori pratici e non teorici e quindi l'ultimo traguardo del critico d'arte è un po' la saggistica e dovrebbe magari dopo aver scritto testi teorici scrivere invece dei manuali per per i giovanissimi e questo è lo step quando si diventa anche docenti in qualche università il manuale non so se mai se lo scriverò però mai dire mai sono stato ero docente di storia dell'arte per 5-6 anni poi come ho detto l'ho abbandonata però probabilmente la recupererò negli anni a venire il curatore come si diventa curatore ne parlavamo prima ognuno ha un modo diverso per diventare curatore adesso ci sono tutti questi master questi corsi va bene però bisogna scendere in campo a sporcarsi c'è poco da fare potrei dirvi un sacco di modi diversi per iniziare a fare questo lavoro però dovete trovare il modo vostro il modo giusto per voi che è sempre diverso non c'è nessuno dei colleghi che io conosco che abbiamo una identica formazione veniamo veramente da campi completamente diversi allora come mai uno che prima ha fatto che ne so l'istituto linguistico io che ho fatto vabbè già più attinente l'accademia però figure diverse che fanno la stessa cosa il curatore io non riesco a spiegarmelo credo se possiamo semplificarla forse si nasce il curatore adesso che un po' sappiamo che esiste questa terminologia uno nasce e lo fa adesso io mi ero sottolineato questo passaggio di Denis Zakharopoulos che dice la novità dell'arte degli anni settanta è infatti quella di un ribaltamento nei rapporti tra la teoria e la pratica artistica nel senso che la mostra diviene il luogo in cui si realizza la teoria come praxis effettivamente quando c'era solo il critico o lo storico dell'arte c'era la pratica artistica e la teoria adesso il curatore incorpora entrambe i ruoli l'artista continua a fare la sua opera nel nel proprio hotelier nel proprio studio poi nel momento in cui la importa all'interno della mostra cambia cambia natura l'opera e in questo il curatore lo dice un po' la parola lo stesso cura i dettagli non cura le patologie non cura le paranoie mentali le pippe mentali dell'artista lui cura i dettagli cioè un'opera se io la posiziono a terra centrale piuttosto che vicino al muro cambia molto cambia la fruizione il curatore forse l'ho già detto che era il collezionista temporaneo vero? sì perfetto ha un amore verso quello dovrebbe avere un amore verso quello che fa deve dare importanza ad ogni singola opera non si devono affastellare fra di loro ogni opera poi è una parola a se stante tu crei un linguaggio all'interno di uno spazio un linguaggio che deve parlare deve avere un lessico comune e un percorso tu tracci appunto questa fruizione dell'utente ma il curatore emerge soprattutto nelle mostre corali molto spesso si vedono mostre di un singolo artista curate anche da 4 o 5 curatori diversi può essere plausibile però in realtà quando è la personale di un artista è implicito che sia curata dallo stesso artista il curatore lo può un po' seguire gli può dare gli può aggiustare delle delle situazioni però mi sembra un po' ancora una forzatura a meno che la mostra personale dell'artista non sia stata non sia nata proprio dialogando con il curatore quindi trovandosi a tavolino facendo dei discorsi generici improvvisamente viene fuori quell'idea e la si vuole verificare mi è successo abbastanza spesso le ultime volte con Nicola Samorì o Matteo Fato si fa pur parler e vengono fuori delle cose dicono sarebbe bello farla bene facciamola e nel caso di Matteo Fato avevamo fatto un paio di mostre oltretutto una qua a Bari in simultanea a Monza dove Matteo mi chiese Alberto io vorrei fare una mostra con te ma non da curatore da artista perché sapevo che avevo fatto l'accademia io ho detto beh dai si può fare da dieci anni che non faccio un'opera d'arte ma si può fare però tu Matteo fai anche il curatore e quindi non è che ognuno di noi aveva un singolo ruolo avevamo entrambi i ruoli e quindi avevamo fatto queste due mostre ecco perché una sede a Monza e l'altra a Bari era tutto duplice e la mostra però l'avevamo chiamata personale come se fosse stata una sola persona ed era curioso il fatto che io mi sono messo a fare non le vorrei chiamare opere d'arte io le chiamavo esercizi di stile ovvero sia se volete magari ve ne faccio anche vedere qualcuno perché mi sa che avevo portato delle immagini non volevo farvele vedere in realtà però ormai sono entrato in argomento vediamo se è sotto mostre no non è qui un attimo di pazienza forse varie no allora sotto allestimenti dovrebbe forse essere qua ecco esatto qui siamo a Monza vi faccio vedere subito qualcosa di mio vediamo se c'è è che qua è fatto tutto a quattro mani ecco ad esempio Matteo fa tuttora questi monocromi sotto la grezza sapevo che lui faceva questi monocromi ho detto bene li faccio anche io i monocromi e questi sono i miei e qui da foto magari non si percepisce ma quello alla mia destra che quindi è la vostra è anche la vostra destra è leggermente più piccolo se notate lo spessore sembra quello normale da da telaio insomma da quadro in realtà questi non li ho né dipinti cioè non li ho proprio fatti li ho trovati sono di tela tela colorata trattata esattamente come se fossero un quadro in realtà è la il cofanetto di un libro quindi queste due parti vanno ecco perché una è più piccola perché si vanno a chiudere una sull'altra però una volta che io li ho pesi a parete anche il gallerista è stato tratto in inganno gli ha visto ah belli questi quadri io ho detto ma sei sicuro che sono quadri eh sì perché cosa dovrebbero essere era una copertina niente di più allora questo per dirvi cosa che io non volevo fare opere d'arte io volevo comunque rimanere nel mio ambito quello del critico del curatore usare una forma per ragionare sulla crisi d'identità sui limiti volevo dimostrare che anche se da dieci anni non facevo più un'opera d'arte ero in grado di farla di farla in modo tale che sapevo che sarebbe piaciuta che era la cosa più furba e furba no cinica lo sono sempre perché anche in accademia con i miei studenti io posso insegnare tutta una serie di escamotage per far diventare un'opera che non ha contenuto non ha un significato cioè non ha nessuna valenza ok però farla diventare un bello oggetto che uno si fa bello questo vorrei averlo a casa ad esempio quest'altro dove Matteo lo avevamo anche incrociato in quella mostra che si chiamava P lui dipinge il quadro lascia questa cornice che in realtà è la cassa per spedire il quadro sapevo che lui aveva questa modalità allora io cosa ho fatto ho preso una cornice Ikea no? perché questa è una cornice Ikea ma l'ho girata infatti questi gancini sono quelli dietro per tenere il cartone ho scambiato quindi il cartone con il vetro e ho portato in primo piano una cosa che non si vede di solito tu vedi l'opera e basta qui in realtà ho messo in evidenza tutta la costruzione della cornice ho eliminato il passepartout quindi questo è il colore effettivamente del cartonato che sta dietro e ho applicato questo collage un collage che voleva essere scusatemi voleva ingrandire invece ho sbagliato era l'altro però adesso come faccio? no niente non riesco e va bene comunque era un ritaglio di un vecchio quotidiano dove effettivamente una volta invece di pubblicare l'immagine c'era la vignetta questo probabilmente era un incontro tra i capi di stato e ho messo questi ritagli geometrici che sono dei ritagli da una riproduzione di Nicola De Maria quindi c'è una pittoricità alla seconda sostanzialmente quindi ecco c'era sempre questo richiamo insomma tra le opere di Matteo e le mie poi è successo che mentre io facevo delle opere meno male ispirate alla sua modalità a un certo punto anche Matteo ha iniziato a fare delle opere ispirandosi a me quindi sarà creato questo circolo vizioso ma questi esercizi di stile mi hanno permesso di verificare effettivamente la reazione del pubblico degli amici quelli che mi conoscono molti artisti mi hanno chiesto di fare dei cambi dai se tu mi dai quel tuo collage io ti do qualcosa in cambio infatti poi molta di questa mostra è andata dispersa per quanto mi riguarda e mi fa piacere che poi gli amici abbiano voluto alcuni di questi miei oggetti però qua c'è un problema se un critico riesce a fare queste cose piacciono potrebbe anche venderle serve ancora l'artista non vorrei entrare in un ginepraio però il curatore adesso molta polemica degli anni 60 soprattutto da artisti come Daniel Buren invitati alle biennali dicevano no io non partecipo a quella biennale perché quel curatore che poteva essere Zeman piuttosto che Jean Clerc mette troppo di suo nella mostra quindi lui diventa l'artista e noi diventiamo solo un corollario ed è anche vero perché se noi guardiamo le pubblicità nelle riviste nelle locandine capita che magari una collettiva il titolo scritto in grande a cura di scritto in grande e poi in piccolo tutta questa fila di nomi di artisti è un po' come il regista nel cinema il regista è diventato più importante dell'attore sono cose diverse magari nel cinema se non ci fosse il regista sarebbe traumatico non si farebbe il film in arte se non c'è il curatore comunque la mostra si riesce comunque a fare ci pensa l'artista o ci pensa il gallerista insomma o il direttore di museo va bene mi sono dilungato su questo aspetto che forse non era il caso la domanda andiamo qua come opera quindi come si diventa un curatore non vi so dare una versione definitiva lo capite quando lo state facendo io l'ho imparato facendo mostre su mostre da quando avevo 20 anni quindi adesso ne ho 36 sono passati più di 15 anni qualcosa credo di avere imparato si allena l'occhio si affina l'intelligenza la cume si risolvono i problemi il curatore è accorpato un po' tutto il critico lo storico il conservatore ed è anche un confidente rispetto all'artista ha molte ha molte più responsabilità rispetto alle altre figure di una volta perché comunque deve rendere conto sia all'artista se scrive poi il testo comunque che sia scritto bene che ci siano dette cose intelligenti cose nuove diverse perché cioè noi molto spesso ci scontriamo contro una bibliografia sterminata immaginiamo un maestro storico anche vivente che magari ha 80 anni quante persone hanno già scritto di lui quindi tutti devi andare a rileggere tutto quello che hanno già scritto per dire qualcosa di più di diverso o che si sono dimenticati che se non fai altro che fare cito qua cito di là ridico le stesse cose ma a modo mio però bene o male è solo fare il pappagallo in realtà noi dobbiamo sforzarci sforzarci di dare una lettura nuova anche rispetto se un artista di 80 anni capire come è cambiato il sistema dell'arte e quindi magari l'opera degli anni 60 com'è vista adesso con le informazioni che abbiamo ad oggi poi è più facile fare lo storico dell'arte che il critico d'arte lo storico dell'arte si basa su informazioni certe il critico d'arte le verifica sul campo sono i tuoi compagni di strada tutti dei guardare intorno e monitorare la scena una cosa che un critico un curatore non deve mai fare a mio avviso è scusate è imporre un tema chiamare 20 artisti fate una mostra dico io su San Giorgio il Drago no è sbagliato tu forzi un artista a fare una cosa che magari non gli appartiene poi c'è l'artista intelligente che dice no cosa c'entra con me quella cosa lì altri invece pur di fare le mostre accettano però in realtà noi la mia categoria dovrebbe guardarci attorno un po' come faceva Zeman perché ha fatto le mostre più belle della storia del novecento perché lui girava molto guardava cosa stava succedendo e si interrogava perché adesso alcuni artisti si mettono a fare le performance perché la scultura non è più scultura ma diventa installazione environment non ha più forma eccetera e quindi lui cercava poi di mettere insieme questi artisti li faceva dialogare fra di loro e quindi faceva una mostra che serviva a lui per uso sempre questa parola verificare effettivamente se la sua intuizione corrispondeva effettivamente a quello che stava succedendo ovviamente lui come lui ce ne sono pochissimi voglio dire era molto aveva un intuito fresco vivace non ragionava a compartimenti stagni aveva anche il coraggio di dimettersi dai musei insomma se non gli facevano fare quello che lui voleva fare molto spesso si finisce di fare sempre la stessa cosa sempre la stessa mostra allestendola in modo convenzionale pur avendo artisti che sono completamente diversi quindi quella cosa di dare a ogni mostra un nome di persona ogni mostra è un capitolo a se stante evolve evolve con il gusto evolve con le mode ma non deve essere schiacciato dalla moda passo alla prossima rapporti tra artisti curatori e galleristi domandona anche questa ragazzi poi l'ho messo su questo fondo verde il colore dei soldi che è quasi una presa in giro di questi tempi non è così complicato in realtà adesso vi do un suggerimento vero che può tornarvi utile non mandate mai curriculum così via internet senza o prima avvisare o dopo chiamare per avere conferma perché se no se lasciate portofoli curriculum eccetera anche se li consegnate nello stand in fiera o se andate in galleria o nei musei li consegnate alle persone molto spesso finiscono in archivo ovvero sia nel cestino la cosa migliore è decidere dove ci interessa lavorare ok e trovare una persona che conosca chi ci lavora quindi essere sempre presentato da qualcun altro è il suggerimento che chiedo sempre agli artisti inutile che scrivi a quel museo la e ti autoproponi se nelle se nelle riviste d'arte funzionava in questo caso no ti fai sempre raccomandare una brutta persona però c'è qualcuno che ti apre la strada io apprezzo anzi gli amici che dicono guarda ti chiamerà questa persona gli ho dato i tuoi riferimenti mi sembra brava valutala perché in una giornata arrivano almeno 100 mail 100 mail di persone che si presentano molto spesso tu clicchi perché se no il tuo lavoro è perdere tutto il tempo a rispondere alle mail e non non te lo puoi permettere quindi se tu riconosci la persona o sai che c'è qualcuno dietro la vai ad aprire se no va direttamente o nel cettino o anche peggio già finisce spam in automatico non ho ancora capito io uso 8 mail e molto spesso mi finiscono nello spam però non a caso e questo vale per l'artista se vuole rapportarsi al curatore cerco un altro artista con cui questo curatore sia interfacciato oppure l'artista chiede a un suo collega di presentargli il gallerista ma succede anche con il curatore io da curatore molto spesso chiamo un artista senti mi interessa quell'artista là so che siete amici mi dai il contatto magari diglielo che te l'ho chiesto ed è molto semplice il problema è poi avere effettivamente la qualità da proporre può essere introdotto anche dalla persona più importante ma se poi da critico scrivi male da curatore non presenti agli allestimenti da gallerista rubi le opere non paghi e da artista fai delle cose atroci il gioco insomma va a decadere però tutto questo è molto semplice per quanto riguarda i rapporti devono essere ovviamente rapporti di cortesia nessuno deve approfittarci dell'altro ci sono galleristi che io conosco veramente sono dei pezzi di pane che si svenano per sostenere i propri artisti poi l'artista appena vede un'opportunità se ne approfitta poi quell'opportunità però è fittizia decade subito cerca di tornare indietro allora mi sembra c'è un'etica professionale ma c'è anche un aspetto umano che devi tenere presente perché questo è un bellissimo lavoro quello del mondo delle arti visive però veramente molto spesso le persone sono irrispettose io vado con tutti quelli con cui ho avuto a che fare comunque si instaura un rapporto di amicizia non sono di quelli freddi sul lavoro allora io faccio il mio poi se ci incontreremo fra 10 anni vabbè no comunque si mantengono i rapporti magari poi sai può anche succedere che con un artista un gallerista io magari non ci lavoro per 10 anni però questo non vuol dire che l'ho accantonato in quel momento forse non era l'occasione giusta c'ho sempre questo mio carissimo amico che dai tempi dell'accademia di Bologna ci ci conosciamo da una vita abbiamo iniziato a fare le mostre solo da 5 anni a questa parte abbiamo avuto 10 anni di ah ciao come stai ma nessuno dei due diceva perché mi fai fare una mostra ma perché non mi chiami mai a scrivere un test no questo non c'è mai stato sapevamo entrambi cosa facevamo ci rispettavamo però non c'era l'occasione giusta non era il momento giusto poi adesso facciamo anche troppe mostre assieme forse per colmare quei 10 anni insomma tutto deve nascere anche in modo spontaneo non troppo forzato perché se no poi se la cosa avviene per forza la vivi anche male ci deve essere distensione in questo lavoro è faticoso perché ci sono pochi soldi c'è la crisi tutti stanno lì attenti appena sbagli che ti scrivono sui blog sulle testate eccetera sono maligni la critica d'arte sul web è ormai quasi inesistente anche nei forum io vedo molto spesso i commenti che vengono rilasciati non sono commenti negativi non c'è mai la critica negativa e quindi diventa costruttiva rispetto alla mostra no si attacca la persona ed è molto triste questa cosa qui è comprensibile ma non è scusabile spero di aver risposto almeno nei rapporti o c'è qualche dubbio no bene la prossima domanda dimmi ah devo accorciare ah pausa va bene pausa perfetto lo dico per gli utenti streaming qui vicino a me c'è un carissimo amico Pierluca eccetera che mi farà da compagnia in questa seconda parte del pomeriggio ah vuoi anche l'acqua già ah ti ringrazio ovviamente si fa per anche un po' sdramatizzare la situazione eccetera c'era una persona che voleva farmi pormi una questione prego siamo in prove di trasmissione ci scusiamo ciao sono Luisa Valenzano e niente prima a pranzo stavamo parlando un po' della figura del critico di come insomma si interfaccia con gli artisti come si e leggevo tempo fa di una di un gioco proprio un tuo gioco con i tuoi amici insomma curatori dove tu con Cuaroni e non ricordo l'altro Flavia Renzi ecco avete proposto testi critici avete proposto di vendere questi testi critici generali così a 50 euro se non sbaglio sì esatto a 50 euro ecco questi testi critici erano fatti apposta per gli artisti figurativi c'era il testo per gli artisti figurativi c'era il testo per gli artisti concettuali esatto sì raccontiamola perché è divertente allora Flavio che è un carissimo amico ed è stato anche direttore dei musei di Legnano che non sono tanto lontani da da Lissone ha fatto un'attività molto importante all'epoca poi adesso Flavio è conosciuto soprattutto per le mostre su Rodin su Mimmo Paladino e era il rapporto con questa piccola galleria Circolo Quadro gli avevano chiesto di fare un evento una serata allora lui ha pensato di scrivere questi testi di una paginetta totalmente generici dove non viene citato il nome dell'artista c'era l'artista concettuale c'era l'artista figurativo e gli altri onestamente adesso non mi ricordo erano 4 o 5 comunque i testi ed erano testi che effettivamente funzionavano se tu li leggevi ed eri l'artista concettuale ti ci riconoscevi erano talmente generici che poi improvvisamente ti sembrano calzare addosso allora qual era il motivo di questo evento di questa cosa che molto spesso la critica d'arte non solo in Italia ma leggi questi testi e dici di cosa ha parlato sostanzialmente di nulla di tutto e di nulla lo dicevo anche a pranzo purtroppo ci sono dei colleghi che io so copiano vecchi testi e cambiano cambiando solo il nome dell'artista ed è preoccupante questa cosa primo perché molti non si accorgono che è successo questo crimine questo delitto irrispettoso verso l'artista per cui è scritto ma anche verso le persone che ti hanno pagato con che faccia vai dal gallerista e gli dici dammi soldi per il testo tutto scritto non l'hai scritto tu l'hai copiato non l'hai neanche parafrasato che dici un minimo di sforzo fallo io mi ricordo all'epoca nel 2006 quando il microfono o vuoi parlarmi così questa prerogativa lei sempre ha avuto anche nel 2006 quando Alberto ha curato una mia mostra ha scritto un testo che poi è un testo fantasma non è mai stato pubblicato io ce l'ho lo custodisco gelosamente noi abbiamo scambiato molte chiacchiere tra cui anche quelle relative ai testi critici e ne vennero fuori di tutti i colori tra cui un testo che doveva essere semplicemente bla 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 doveva essere tutto un testo di questo tipo oppure l'idea della mossa delle ore era di coinvolgere Rocco Siffredi a scrivere il testo critico e così via quindi è stata poi mi sa che tu facesti un testo tutto in latino quella è un'altra sensazione insomma lui si diverte parecchio a prendere in giro il sistema questo sistema allora poi torniamo su questa cosa di Flavio Aresi però mi hai fatto tornare effettivamente quella feci una mostra a Vicenza in una galleria privata dove effettivamente avevo fatto tradurre un mio testo in latino ed era stato pubblicato c'era una cosa assurda perché di solito si traduce il latino in italiano mai viceversa e già questa era un'assurdità la tipologia di mostra mi aveva portato a fare quella cosa lì perché comunque erano artisti che richiamavano un'estetica del passato eccetera quindi volevo che anche il linguaggio fosse altrettanto aulico ed emode e quindi forza di cose sono finito sul latino ma poi ero ancora molto giovane e quindi mi divertivo a infierire su questi utenti medi eccetera e in realtà poi però il gallerista e io lì ho ceduto effettivamente mi fa no dai Alberto prima mi aveva detto sì dai facciamolo il catalogo solo col testo in latino eccetera poi mi ha chiesto no dai forse sarebbe cosa opportuna e giusta mettere anche poi l'italiano allora lì ho ceduto e in quel catalogo c'è l'italiano il problema è che molti non l'hanno trovato perché era dietro l'anta della copertina la seconda anta di copertina quindi molto spesso non si aprono queste ante c'è ma nessuno l'ha letto o pochissimi lo sanno tornando invece a quel discorso di Flavio Arenzi era un gioco un gioco per prendersi in giro in modo ironico perché succedono queste cose ci sono persone scorrette ma in tutti i campi in qualsiasi in qualsiasi lavoro ovviamente ci sono queste persone non soltanto in arte però era un'occasione per dire facciamo più attenzione insomma ok questi erano testi democratici li chiamava Flavio uno se lo acquista per un prezzo democratico che è 50 euro però per 50 euro hai anche un testo di quella qualità cioè una qualità scarsa perché non è tarato su di te quindi tu da artista se accetti una firma prestigiosa che è quella di Arenzi però hai anche un testo che sai che non è fatto per te quindi è come io da collezionista sono un piccolo collezionista io se devo acquistare un'opera l'acquisto per il valore dell'opera o per la firma ed è quello che succede molto spesso si accetta di comprare l'ultima schifezza del grande maestro ma sai che è una schifezza però dici ah no ma io ho un un Mario Sironi un Picasso sì che cos'hai? ah beh sì un elitto perché ero stato coinvolto in questa iniziativa perché io e Flavio per certi aspetti ci assomigliamo anatomicamente nel senso che basta poco siamo calvi abbiamo gli occhiali molto spesso abbiamo anche la barba e succedeva questo quando molti addetti ai lavori incontravano Flavio lo scambiavano per me ma quando incontravano me non è mai successo come si scambiavano per Araensi quindi non capivamo come mai ci fosse questa cosa allora Flavio mi ha chiesto di presentare quella serata fingendomi lui ed è stato divertente insomma quindi ha iniziato a delirare dire tante cose un vaniloquio sostanzialmente era un'occasione per divertirsi poi c'era anche Quaroni Quaroni invece ha fatto un discorso più posato a un certo momento ci ha fermato ha fermato sia a me che a Renzi perché aveva timore che la serata andasse a schifio sostanzialmente allora no scusate forse bisogna chiarire questa cosa non aveva non aveva capito che effettivamente io e Flavio ci eravamo messi d'accordo nello scambiarci i ruoli e quindi poi vabbè ci ha spiegato tutto eccetera c'è esiste questa cartella con questi testi scritti firmati da Flavio quindi sono testi autografi ma su artisti anonimi e c'è poi un testo un decalogo scritto dalla gallerista che spiega come bisogna comportarsi se acquisti quel testo lì se hai autorizzato a pubblicarlo informando il critico il critico ti rilascia comunque la firma l'autenticazione c'è un'introduzione di Quaroni e avevano chiesto anche a me di scrivere qualcosa a quel punto io ho detto senti Flavio a questo punto io ti realizzo un testo apocrifo cioè sì ci sono io ma è come se non ci fossi io infatti realizzai quest'immagine con un testo dove era tutto barrato quindi era diventato illegibile e anche lì sembrava che avessi voluto fare l'artista in realtà è sempre un gioco di usare l'arte visiva per comunque fare un discorso sulla critica d'arte ed è questo il siparietto che si era creato non sono cose che faccio spesso le faccio una tantum perché se no poi mi scredito verso il mondo dell'arte però ci sta insomma non bisogna essere troppo seriosi fare solo le cose giuste importanti ogni tanto siamo fra di noi ecco io sono spaventato da ah no non si vede fortunatamente la prossima domanda che è cosa significa e quali sono i compiti di un direttore di museo lo mettiamo anche a tutto schermo che è più bello il rischio è che inizio ah no il rischio è che inizio a parlare di questa cosa qui e vi tengo una settimana non so se c'è qualche altra domanda o una curiosità una discussione se no inizio con questo argomento mi sa che dovrò iniziare allora sono direttore da due anni è una cosa ovviamente per me importante si nasce critici con il microfono giusto prima che tu parli per una settimana volevo chiederti secondo te un curatore può organizzare ancora diciamo lecito e ancora contemporaneo è un attuale organizzare dei gruppi di artisti noi ci ricordiamo la storia dell'arte i futuristi i cubisti pop art e così via oggi l'idea di portare avanti un gruppo di artisti è attuale ecco e se il curatore in questo senso noi abbiamo visto l'ultimo esempio della transavanguardia per esempio uno degli ultimi casi che è molto criticato questo gruppo che molto spesso rimanda proprio al curatore più che agli artisti stessi e quindi ecco questa è la allora direi di no è un grosso errore lo si è verificato anche negli anni 80 col medialismo altri gruppi qual è il problema che tutti quelli che tu hai citato tutti questi movimenti questi gruppi erano teorizzati alla base e poi resi nella pratica anche il surrealismo è un movimento letterario che poi ha avuto una conversione in pittura ma i gruppi i movimenti che sono forti sono quelli che effettivamente nascono in modo spontaneo le cose accadono sono nell'area improvvisamente succedono ed è qui lo dicevo poc'anzi il pregio di un curatore di un critico è monitorare essere lì al momento giusto e capire che cosa sta succedendo l'arte povera nasce così cioè c'erano questi artisti prima erano in mano ad altri critici ma è stato Celant effettivamente a mettere per iscritto la situazione Bonito Liva invece teorizza prima e poi seleziona un gruppo di artisti la trassa avanguardia per dirla tutta nasceva come arte cifra erano molti più gli artisti c'era Nino Longobardi c'era Luigi Ontani eccetera era un gruppo molto più allargato poi si è ragionato a tavolino per ridurre l'organico è ovvio che se tu hai 20 artisti non riesci a posizionarli allo stesso modo è più difficile ci vuole più tempo se tu ne hai 4 o 5 l'impatto è più immediato perché il risultato che si voleva ottenere era avere un riscontro subito internazionale e ci sono riusciti però alla fine il gruppo come spesso succede si si sfrangia e quindi rimangono le singole personalità ecco comunque all'interno della trassa avanguardia ci sono artisti di tutto rispetto il problema è avergli affibbiato un'etichetta agli artisti non piace l'etichetta lo sappiamo benissimo poteva succedere nei primi del novecento però anche i futuristi poi c'erano le scissioni io non sono più futurista io sono stra paese adesso tipo soffici poi migravano da uno all'altro duravano poi pochissimo questi gruppi hanno fatto la storia dell'arte erano altri tempi un sistema dell'arte che era sembrava avere molti più anni rispetto ad adesso insomma i meccanismi erano diversi non c'erano così tanti artisti non c'erano così tanti musei e gallerie quindi era anche più facile riuscire a veicolarli verso l'estero verso la Francia la Germania la transavanguardia rispetto ai nuovi selvaggi tedeschi sono bene o male la stessa cosa però i nuovi selvaggi continuano ad avere un appeal molto più forte molto più internazionale perché comunque la Germania è nazionalistica cerca di spingere i propri artisti e sono artisti che comunque hanno continuato a fare ricerca sul proprio specifico Basilitz l'ultima mostra che ho visto era a Monaco al museo è sempre strepitoso nonostante la sua età magari non è più quell'istrionico di una volta però vedi un'energia cioè vedi che c'è proprio un fuoco sacro in questo artista quindi sono i singoli che reggono il gruppo e non è il gruppo che regge i singoli ci sono ancora dei tentativi adesso di fare gruppo di fare squadra è ovvio che questo facilita gli artisti imponi una situazione può essere ad esempio questo lo bro pop surrealism californiano che adesso si sta cercando di riprodurre in Italia ma sono due cose diverse cioè bisogna anche stare attenti alla geografia dell'arte se noi importiamo un modulo inglese o francese in Italia non funziona dobbiamo vedere che cosa succede se poi ti accorgi che due quattro sei dieci artisti probabilmente stanno facendo una cosa similare è perché c'è una sensibilità che è cambiata allora tu lì ti puoi confrontare ed è giusto anzi è necessario mettersi in gioco mettere la propria faccia su questa cosa molto spesso si tende a non rischiare allora io chiamo quegli artisti là ormai sono già fermati eccetera e non rischio niente di mio li consolido e basta nel caso del museo ad esempio io faccio un'attività forse nata e diversificata perché molto spesso ho maestri storici in vita o anche scomparsi insieme a giovanissimi insieme ad artisti di mezza carriera a volte succede che artisti che erano un po' in declino li ho ripresentati al museo e me li sono ritrovati poi nelle gallerie nelle fiere e quindi il museo ha anche questo questo dovere di stare attenti a tramandare la memoria cioè diamo giusti riconoscimenti a quelli bravi che magari non hanno per varie vicissitudini non hanno le gallerie che contano però comunque se non hanno la galleria che conta è giusto ghettizzarli non farli esporre al museo no assolutamente cioè io non guardo il curriculum io guardo l'opera ok è un discorso sempre che vale per me altri musei no non cerchi per dire tu osservando potresti dire ecco potresti dire ma quasi quasi mi invento pure io un gruppo di artisti da portare avanti non è la corretto non è spontaneo ecco no è come la mostra è strategico che gli dà il tema fai una mostra su San Giorgio del Drago è una forzatura è una forzatura costruisci un gruppo ok allora se costruisci un gruppo deve anche avere le gallerie che lo sostengono sono dinamiche che funzionavano magari negli anni 80 forse un po' meno nei 90 ma sicuramente adesso non è più fattibile l'ultimo movimento l'ultima corrente che mi viene in mente forse cos'è stata la scuola di Lipsia sì erano tutti pittori ma pittori anche molto diversi fra di loro chiamarli scuola gruppo era solo una questione di comodo di praticità adesso invece si fanno delle mostre magari l'identità geografica ai Balcani la Cina l'India no? cioè ci sono quelle mostre che si interrogano sull'etnia e lì sono tanti gli artisti ovviamente tu cosa fai? vai a indagare quel continente ovviamente ne trovi dei bravissimi ma poi devi cercare di far numero allora ci sono dei bravi e altri che fanno solo l'arredo sostanzialmente secondo me bisognerebbe appunto rischiare di più ecco secondo me sì posso solo dire un'ultima cosa per per capirci fra di noi fra di noi e qualcuno dall'altra parte della della Cinepresa una delle primissime mostre che ho fatto al museo di Lissone era una mostra di Franco Grignani lo raccontavo ai miei amici ieri sera Franco Grignani a voi non dirà nulla è un nome che probabilmente è zero allora se io invece vi dico che lui tanto è famosissimo all'estero è l'inventore del logo della pura lana vergine quello lo conoscete? è il logo più famoso al mondo e lo dicono proprio studi hanno fatto delle ricerche in tempi recenti è il logo più famoso perché intanto è bellissimo geniale nella sua semplicità ecco Franco Grignani è un artista che nasceva nel secondo futurismo poi ha attraversato l'optical è famosissimo proprio per questi suoi quadri che sembrano richiamano un po' quelli della 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 Riley erano gli stessi tempi la stessa epoca poi però lui negli anni 60 e 70 era nato il cinetismo l'arte programmata quindi gli artisti iniziavano anche a concepirsi come operatori estetici no? no io non sono un artista sono un operatore estetico e c'era l'idea dell'arte moltiplicata cioè fare il multiplo un multiplo che in realtà non era mai tale e quale perché era tutto molto artigianale li costruivano pezzo per pezzo quindi alla fine non è come l'opera grafica riprodotta in 10.000 esemplare che è quella non puoi sbagliare erano questi oggetti che alla fine erano oggetti unici nella loro imperfezione dovevano avere prezzi politici in realtà non riuscivano ad avere prezzi politici perché fatti a mano c'era una mano d'opera molto consistente in quegli anni quindi c'erano degli artisti che poi diventeranno dei designer altri diventeranno dei grafici pubblicitari ad esempio Franco Grignani per molti anni della sua vita ha sperimentato la grafica visiva ha lavorato tantissimo ed è famoso soprattutto per la grafica e molti si sono dimenticati che lui era anche un artista visivo lo è stato per tutta la vista però persona riservata elegantissimo però non era un'arrivista aveva i suoi riconoscimenti tutti lo apprezzavano poi capita che un ottimo artista muoia e magari venga dimenticato ecco la responsabilità di un museo ma anche di un critico è di vedere che quali errori si sono commessi nella storia dell'arte Grignani è stato un grossissimo errore adesso torniamo un attimo sulla fiera di Bologna dove sono tornati gli anni 60 ma gli anni 60 del cinetismo dell'arte programmata o in una piccola porzione anche dell'arte della pittura analitica ma con mio grande piacere c'erano anche dei quadri di Franco Grignani e soprattutto dopo che io due anni fa l'avevo fatto al museo di Lissone che è vicino a Milano che è distra 20 minuti ma comunque da un punto di vista geografico è provinciale non lo è come programmazione perché è una programmazione che io mi aspico almeno nazionale tant'è vero che adesso abbiamo e forse vi farà piacere saperlo una mostra di Franco scusate di Michele Zazza che è di Molfetta e Michele ha la mostra anche alla Gnam di Roma quindi non dico che faccio concorrenza alla Gnam di Roma perché insomma Galleria Nazionale d'Italia insomma però sono sul pezzo quindi mi difendo molto bene e quella mostra di Grignani un anno dopo a Milano è stata fatta la Fondazione Stelline ecco che la provincia per una volta è arrivata prima della metropoli della città ma perché è più facile riuscire a fare queste cose in provincia a imporsi in provincia perché si può sperimentare si può si può fare un altro tipo di programmazione che è vincente col senno di poi sul momento tutti gli dicono ma perché sei andato a riscoprire quell'artista poi passano anche pochi mesi o pochi anni e dicono ma dai ma sei tu che hai fatto quella mostra sono cose sono cose assurde perché lì per lì dici io faccio tanta fatica e non ho riscontri sull'immediato però è meglio averli sulla lunga distanza la trassa avanguardia ha avuto i riconoscimenti sull'immediato e li sta perdendo adesso quindi io penso sempre alla posterità piuttosto che al presente così so di avere più vita sono più longevo c'era una domanda sì lei quindi sostiene che tutti i movimenti del secolo scorso sono esauriti devo ripetere dicevo quindi lei sostiene che tutti i movimenti del secolo scorso si sono esauriti con la trassa avanguardia diciamo che a parte qualche piccolo movimento che c'è stato dopo però mi pare di capire che lei si ferma alla trassa avanguardia auspicando comunque un non ritorno di un altro gruppo cioè non un ritorno un'affermazione di un altro gruppo nell'immediato o nel breve termine allora faccio questo discrimine possono ancora esistere i collettivi degli artisti perché negli anni 90 avevamo gli artisti inglesi i young british artists no? però era era una generazione nata nell'accademia no? e quindi c'era Damien Nears c'era la Sara Lucas e c'erano tutti gli altri ma non c'era un filo conduttore fra di loro no? quindi c'era un rapporto di convivialità si davano una mano fra di loro e questo va benissimo ma se poi arriva il curatore o in quel caso era stato il gallerista teorizziamo questa cosa no non si può teorizzare io sono sono convinto che oggi non si potrebbe fare un nuovo manifesto un nuovo modo un nuovo movimento culturale artistico sarebbe anacronistico sicuramente questo è sicuro però sono convinto ne parlo con Cetera ne parliamo spesso che la possibilità di fare un gruppo che esprima arte del momento più che arte contemporanea nel senso più largo della parola ma proprio arte del momento senza avere lo stesso segno artistico o la stessa idea artistica e senza avere un manifesto una teorizzazione di questo gruppo potrebbe avere un senso purché sia l'espressione di un gruppo di artisti che nelle varie sfaccettature fanno arte del momento sì anche per me è condivisibile questa cosa e formerebbe comunque un gruppo sicuramente poi potrebbe essere un gruppo larghissimo questo ovviamente il rischio qual è che poi però il compito poi del curatore o del critico che porta avanti porterebbe avanti questo gruppo fare una scelta di qualità sicuramente il problema di questi chiamiamoli collettivi che nascono spontaneamente per amicizia per solidarietà eccetera il problema è che a un certo punto quando le cose iniziano a ingranare ovviamente c'è sempre qualcuno che spicca per intelligenza per qualità del lavoro eccetera quindi poi in modo altrettanto naturale va a naufragare questo gruppo non si può teorizzarlo se non da un punto di vista storicistico e geografico non gli puoi però appioppare ok c'è uno spirito del tempo uno zeltegeist ok quello si può riconoscere però tu da critico non puoi ostinarti a cercare un filo conduttore un tema uno stile reale che li unifichi allora io ne parlo spesso con Angelo Galatola di questo allora io penso che il gruppo di artisti il collettivo serva soltanto come possibilità di organizzare più facilmente un evento per cui se io faccio la mostra personale di Angelo Galatola per quanto lui possa essere bravo sarà difficile attirare tanta gente invece se la stessa esposizione ci sono c'è un gruppo di artisti ecco che l'interesse è maggiore quindi a questo serve serve come scambio però poi sono d'accordo sul fatto che non ci possa essere un manifesto e sono d'accordo sul fatto che naufraghi nel momento stesso in cui uno di questi comincia a imporsi e così è chiaro che a livello proprio di organizzazione locale locale ribadisco locale ecco che geograficamente è utile questo in effetti io vedo ultimamente molto spesso la mostra degli artisti pugliesi a Londra gli artisti siciliani che si sono imposti in un certo ecco è geografico credo che forse sia stato proprio Zimann a dare questo senso di globalizzazione di attenzione legata proprio alla geografia dell'arte quindi ecco io in realtà ti ho fatto la domanda immaginando già la risposta così ma siccome ne parliamo spesso con con Angelo di questo ecco quindi mi sono ricordato di farti la domanda però adesso sono proprio curioso di sapere devo dire cosa significa e quali siano i compiti di un direttore di museo allora poi faccio una premessa c'è museo alcuni fanno a nomina diretta nel mio caso c'era un bando pubblico quindi si partecipa si sottopone tutta una serie di documenti al di là del proprio curriculum eccetera si chiede anche di elaborare un piano di lavoro per uno o due anni dipende poi appunto da museo a museo cambia cambiano anche le le richieste che ti fanno magari valorizzazione della collezione valorizzazione delle dell'attività degli artisti del territorio come intendi comunicare agli spettatori qual è il tuo piano proprio di ufficio stampa eccetera e e vabbè diciamo che mi è andata bene sono arrivato uno come diceva famoso ciclista e e mi sono trovato in questa realtà nuova perché anche lì io nasco critico divento curatore il passo successivo era effettivamente diventare direttore problema che mi angoscia adesso dopo aver fatto il direttore sì è l'unica ma sono comunque rovinato per cui è preoccupante questa cosa spero di diventare direttore magari di un altro museo perché appunto magari un po' più grande un po' più articolato fare una diversa attività io ho fatto un'attività tarata sullo spazio di Lissone sapevo le potenzialità ma ovviamente devi essere consapevole anche delle debolezze per quanto riguarda le risorse però comunque devi lo dicevo a pranzo devi essere credibile devi essere convincente le persone poi ti seguono perché lo dico spesso io non sono un trascinatore di folle ma di folli ok le folle arrivano di conseguenza perché comunque un'attività così frequente in cui io non mi do paletti io non dico questo museo è solo un museo dove troverete solo pittura o solo fotografia o solo arte concettuale è un museo dove le mostre a cui assisti sono molte contemporaneamente e diverse fra di loro poi mi sento dire spesso ah mi è piaciuta molto la mostra del secondo piano perché è bello che le persone noi addetti ai lavori ma anche gli altri se vedono tante cose diverse si interrogano su quale gli piace di più fanno i confronti non dovrebbero farli però nasce spontaneo insomma è nella nostra indole dire che cosa ci è piaciuto e che cosa no però questo funziona perché io fornisco varie tipologie di mostra che sono sempre diverse durante tutto l'anno non ho mai un format prestabilito non faccio mostre pacchetto mostre preconfezionate si discute sempre prima con l'artista si ragiona su cosa si può fare io non prometto mai mari e monti dico ah si guarda è fattibilissimo tutto e poi succede spesso questo no questo no quando sei avviato il meccanismo inizia a tirare i remi in barca che è una cosa spiacevolissima poi per per gli artisti per le persone che con cui lavori e ritorno sull'argomento avere più mostre in un museo permette intanto di dare un'idea di che cos'è il contemporaneo ovvero si ha tante cose che succedono contemporaneamente nessun museo può farti vedere che cos'è il contemporaneo no è impossibile dovresti avere veramente uno stato fatto solo di musei però capisci fai ragionare lo spettatore perché se tu hai una sola mostra su quattro livelli ok puoi apprezzare quell'artista o se è una collettiva comunque però è anche un po' un po' riduttivo ci sono già altri musei che fanno questa cosa vogliamo fare dei musei che sono diversi una volta tanto vogliamo appunto rischiare metterci in gioco poi se le cose van bene sono sempre gli altri a raccogliere il seminato se le cose van male mi bastonano vabbè le cose mi stanno andando molto bene per la situazione e anche gli stessi artisti capita che mi dicono guarda Alberto è bello venire al museo di Lissone perché finalmente ci sono queste aggregazioni di artisti che poi si va a cena a pranzo durante gli allestimenti si discute si ragiona poi ah sì stavo guardando il tuo allestimento sai che io farei così no? sono quelle situazioni anche importanti nella crescita di ognuno di noi cosa che si sta un po' perdendo quindi è un museo che è come un organismo deve essere sempre in funzione appena si si adagia un po' si fossilizza cioè sopraggiunge questa tarassia musei non solo in Italia ma anche all'estero sono sempre più dei mausolei fanno il minimo indispensabile come attività espositiva magari non sfruttano bene i propri spazi non fanno ruotare le collezioni ma qui è perché magari il direttore artistico o non ha fantasia o non ha voglia di lavorare gli interessa lo stipendio o ci sono delle pressioni ci possono essere delle pressioni giustamente essendo un'istituzione pubblica comunque ci sono delle aspettative bisogna fare delle cose anche per i contribuenti perché poi i contribuenti si ma io pago le tasse per cui quel museo là alla fine sono anche soldi miei che ti do io dico sempre bene io sono al museo di Lissone sono venuto ad abitare a Lissone anch'io da contribuente posso dire la mia no in più solo il direttore esatto questo ovviamente è una provocazione però ecco anch'io ci metto del mio non solo da direttore ma anche da cittadino cioè anch'io do i soldi e le tasse e voglio che siano ben spesi sto molto allora i compiti di un direttore di museo come il mio sono tantissimi perché ho un budget da amministrare durante tutto l'anno è un budget che se se lo faccio fuori per la prima grande mostra di lancio eccetera poi la mostra non è che posso farla durare 12 mesi perché tanto sappiamo che dopo i primi 3 massimo 4 mesi ormai la mostra è andata è bruciata chi la doveva vedere chi la voleva vedere l'ha vista chi ha letto sui giornali ormai la comunicazione è arrivata e quindi il museo si spegne la mia attività è forse nata anche troppo perché mi dicono fai troppe mostre non riusciamo a seguirti ogni 2 mesi continuo a inaugurare 5, 6, 7 mostre non abbiamo il tempo perché ovviamente si fanno tante cose in giro per il mondo e quindi non si ha il tempo io stesso non riesco a vedere quello che vorrei nei musei ho difficoltà ad aggiornarmi a leggere le riviste i libri vorrei studiare molto di più di quanto sto facendo però non è solo un lavoro di intelletto non è solo scrivere il testo in catalogo devi seguire il catalogo far pressione per recuperare le immagini poi ti devi accordare sui trasporti stare attento che arrivino in orario che non si fermino alla dogana se si fermano alla dogana è la fine è la cosa peggiore che ti può succedere soprattutto quando hai questi tempi serratissimi tutto deve essere ben oliato poi devi seguire gli allestimenti quindi comunque essere ospitale verso gli artisti portarli a pranzo fargli vedere dove devo andare a dormire certo ci sono anche altre persone all'interno del museo che potrebbero fare queste piccolezze ma è ovvio che in un rapporto umano ti viene spontaneo dai ti accompagno io all'hotel o al bed and breakfast sono tutte cose piccole che sommate diventano un macigno che io devo portare ma lo faccio volentieri cosa significa essere un direttore significa cercare intanto di dare un'identità a un istituto pubblico cioè fare per quanto è possibile la differenza se io faccio se io vado sul sicuro dico allora il museo vediamo un museo che può essere similare a quello di Lissone ce ne sono ma adesso non mi vengono in mente ma non so la civica di Trento qui è il museo Pascali visto che siamo a Bari no la struttura bene o male come metri quadri potremmo essere lì loro fanno così lo faccio anch'io perché non è divertente non è da te diciamo sì ecco diciamo la verità è un museo che ho ricostruito intorno a me senti organizzi anche prevedi che sono eventi collaterali durante la mostra sei d'accordo o sei contrario apertura per esempio concerti performance ovvio allora è un museo di arte contemporanea ma che ha anche una duplice vocazione legata al design perché comunque siamo in Brianza lì diciamo è un po' nato l'idea del designer e quindi mi devo interfacciare anche con questa realtà che a fine mi piace molto però al di là del fare le mostre che siano di design oppure di arte poi c'è tutto l'apparato della didattica noi quasi ogni giorno abbiamo scolaresche che vengono a trovarci al museo ci sono il giovedì sera noi teniamo aperto il museo fino alle 23 ok perché il giovedì sera facciamo delle serate di presentazione di libri o concerti o eventi è ovvio perché anche se io mostre ogni due mesi questo non non è sufficiente devi tenere viva l'attenzione devi qualsiasi persona deve sapere che se vai in quel museo c'è sempre qualcosa o di nuovo o che comunque c'è una presentazione insomma altrimenti se non abitui la persona se non gli dai questa informazione che è un museo vitale vivo da vedere da vivere è la parola più corretta insomma dovrebbe essere frequentato in modo spontaneo anche perché c'è una politica più o meno condivisibile ovvero sia l'ingresso è gratuito è una scelta politica che a me sta anche bene però se 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 dicesse guarda l'ingresso costa due euro due euro anche uno studente voglio dire se li se li può spendere abbiamo molti visitatori se i direttori prima di me avevano grandi budget hanno fatto anche mostri importantissimi su sulle corbusier su tapies eccetera quindi era un museo di arte moderna se lo poteva permettere adesso è molto vicino all'arte contemporanea anche ai giovanissimi questo mescolare le carte anche i ruoli talvolta dimmi acceso ma anche nel museo lì da te prevedi anche non so a parte le visite guidate nelle scuole anche momenti interattivi insomma con bambini o altro perché molti musei cioè qui da noi in Italia in realtà l'aspetto interattivo con i bambini con cioè seminare dal basso manca un po' perché non so a Louvre o altre un po' a Venezia ce ne sono ma non qui mancano non so perché io penso ai bambini anche perché io ho dei bambini e chiaramente per loro è difficile rapportarsi in una mostra quindi se noi con Tulab abbiamo organizzato quando è capitato insomma la mostra insomma la mia mostra io per esempio ho pensato perché avendo bambini ho pensato a creare qualcosa che coinvolgesse anche loro perché si annoiano cosa come fanno i bambini a guardare un'opera d'arte una grande opera d'arte e non annoiarsi nel nel tuo museo no i bambini facciamo molti laboratori didattici si va proprio dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole medie in Italia l'errore che subentra c'è sempre un gap a un certo momento nelle scuole superiori anche se tu educhi il bambino lo porti al museo perché questi laboratori molto spesso le come si chiamano i direttori delle scuole il preside il preside dice ma perché devono per forza andare al museo non si può fare all'interno della scuola e tu dici no l'arte bisogna vederla cioè il quadro tu lo puoi spiegare però ce lo devi avere lì allora in questi laboratori gli si fanno vedere le opere abbiamo una vasta collezione legata all'informale degli anni 50 con i grandi maestri che appunto vanno da Tapies a Vedova a Mattia Moreni gli si fa vedere il quadro gli si dice secondo voi con che materiali è realizzato perché quello di Tapies ci sono le sabbie c'è la paglia ovviamente il bambino non se ne rende conto allora tu gli metti gli strumenti davanti e dici questa è la terra questa è la paglia si può fare arte anche così e quindi si fa proprio il laboratorio si sporca in giro anche molto spesso ovviamente c'è la saletta deputata questa cosa qui e in Italia in realtà funziona molto bene cioè negli ultimi anni hanno molta attenzione a a educare i bambini il problema è che poi dovrebbero essere i genitori comunque a riaccompagnarli ai musei quando sono adolescenti perché una volta che sei adolescente li perdi completamente hanno altri pensieri subentra l'aspetto orbonale eccetera le prime esperienze legate magari a cose non proprio giuste e corrette cioè inizia a bere inizia a fumare magari qualche droga eccetera l'innamoramento la crisi la depressione cioè ci sono questi sbassi emotivi molto forti oltre non dettati solo da sostanze stupefacenti eccetera e quindi si deconcentrano sostanzialmente magari alcuni ritornano quando sono un po' più grandi celli verso i 20-25 anni ritornano a frequentare il museo ma è successo anche a me quando avevo 16 anni allora mi ricordo che c'erano queste scolaresche che ti portavano in museo e tu dici mamma mia che noia con la guida che ti spiegava perché ai tempi ti spiegavano solo le opere non ti facevano fare i laboratori e quindi questo era abbastanza un deterrente cioè tu vai fuori dalla scuola però continuano a darti la lezione verbale e basta è nel fare che tu capisci e adesso le cose sono cambiate e poi quando ero più grandicello insomma ho iniziato a rifrequentare i musei e dicevo ma io ho memoria di quella volta che mi avevano portato in basilica palladiana che c'era quella mostra là ma perché mi manca tutto tipo 5-7 anni come mai c'è stato quel vuoto là tu sai che io insegno al liceo e io punto molto sul allora io insegno al liceo e io punto molto su questa fase che tu dici questo vuoto e secondo me è colmabile è chiaro che bisogna trovare una strategia molto diversa intanto i ragazzi in quell'età in quell'età cominciano ad appassionarsi realmente all'arte questo passaggio io parlo statisticamente avviene attraverso la musica cioè la prima arte a cui si appassionano è la musica poi viene il cinema e poi come hai detto tu verso i 18 19 20 anni si appassionano alle arti visive o alla letteratura anche la letteratura è messa in coda allora il trucco secondo me ecco perché ti dicevo degli eventi collaterali è inserire questi eventi collaterali legati alla musica al cinema che poi sono collegabili secondo me è facilmente cioè il linguaggio artistico poi alla base è lo stesso cioè farvi dire che anche il quadro per dire il quadro la videoarte la performance non è scollegata dalla passione musicale quindi bisogna trovare dei laboratori più diciamo adeguati a quella età magari si devono fidanzare durante la visita sarebbe bello fidanzarsi durante la visita al museo può essere ma io conosco musei in Italia che fanno tantissima attività didattica più che attività espositiva per dire al di là dei grandi musei però c'è credo però lo stiano chiudendo adesso ha sempre avuto un po' di difficoltà il museo di Cinisello Balsamo che era importantissimo che era il primo museo in Italia dedicato solo alla fotografia aveva una collezione di fotografia spaventosa importantissima il problema che è un museo che non ha un referente ok dovrebbe essere la regione dovrebbe essere la provincia dovrebbe essere il comune quando succedono queste cose ovviamente si rimpallano da chi vengono i soldi ma ci penso quel lato e quindi ha avuto sempre difficoltà nel sostenere i costi della struttura perché anche solo i costi di un museo sono veramente elevati perché il riscaldamento poi i magazzini devono essere sempre a una temperatura per preservare le opere e il personale la guardiania e veramente poi l'impianto luci che si brucia ripristinarlo le pulizie sembrano stupidaggini in realtà influiscono molto ecco perché negli ultimi anni i budget solo per le mostre si riducono perché ci sono tantissime altre spese però il museo di Cinisello Balsamo che io l'ho visto l'ho frequentato ero rimasto un po' sorpreso la prima volta perché le sale espositive non sono particolarmente ampie ma hanno un salone gigantesco dove fanno il laboratorio didattico quello sembrava il museo il laboratorio didattico io ero affascinato io mi immagino quanto il bambino se io fossi stato un bambino mi avessero portato lì mi sarei divertito tantissimo ovvio che le due cose devono andare di pari passo perché cosa succede il genitore porta il bambino lì un po' per educarlo ma anche per perché vuole fare dell'altro però molti di voi hanno figli possono capire però già che il genitore porta il bambino il genitore già che lì dovrebbe avere lo stimolo di fare un giro al museo a volte non succede anche qua è un problema che bisognerebbe affrontare qui in Italia cosa invece all'estero io vedo questi genitori con i bambini di 5 anni educatissimi in un silenzio di tomba guardano attentissimi e poi loro non si perdono nella fase adolescenziale comunque essendo stati abituati non solo attraverso la scolaresca non solo attraverso le gite eccetera ma sono i genitori che li accompagnano genitori che poi magari fanno tutt'altro lavoro e vedi questi bambini educatissimi che frequentano i musei poi magari vai a Guggenheim a Venezia sembra di stare in un mercato rionale gente che corre per le sale che parla cellulare che si chiama è una cosa molto brutta e molto sgradevole non è che entri in un museo ci deve essere il silenzio totale ovvio però non puoi parlare a voce alta ecco disturbi le altre persone i musei in Italia poi tu vai a vedere le mostre sei in cinque persone uno sei tu due sono cinesi uno è un tedesco e l'altro non si sa ma è capitato lì per sbaglio chiedendo magari dove era il bagno e dici perché succede questo poi magari ci sono adesso quei come si chiama le giornate del contemporaneo dei musei che c'è l'apertura straordinaria fino a tarda sera non si paga l'ingresso improvvisamente vedi code chilometriche fuori dal museo allora è vero che certi musei il biglietto costa anche 15 20 30 euro che è uno sproposito e poi ci sono queste che però si fiondano subito quando è gratis allora la cultura quando è gratis va bene quando è a pagamento no un minimo lo devi riconoscere perché ci sono dei costi veramente importanti per il trasporto l'assicurazione i cataloghi la comunicazione se poi le persone frequentano poco il biglietto deve crescere di prezzo se invece venisse più frequentato costerebbe 5-3 euro senti a proposito delle spese ti volevo chiedere il direttore a voce in capitolo sulle possibili acquisizioni del museo e c'è un budget a parte sì c'è un budget a parte cambia sempre da museo a museo ma è il direttore che possono crearsi varie dinamiche può essere l'artista che decide io vorrei donare un'opera al museo anche se si tratta di una donazione non è in automatico che viene presa il direttore dice sì te l'accetto o non te l'accetto motivando ovviamente la scelta magari gli si dice no perché questo non è un museo per quel tipo di arte non ha senso nella nostra collezione no ce l'abbiamo già no anche per questione magari di formato se sono troppo grandi o se sono troppo pesanti non è detto che nei magazzini poi ci stiano e soprattutto se tu prendi un'opera che ha un un perimetro metti di 4 per 4 metri ovvio che prendi quella e poi non prendi più altro quindi uno deve anche essere oculato nelle scelte magari si ragiona con l'artista e si dice guarda magari vogliamo anche altre ipotesi questo per quanto riguarda la donazione poi è sempre spiacevole però dire no guarda non te l'accettiamo perché viene recepito male sembra che ci sia uno snobismo di partenza anche se poi glielo vai a spiegare le ragioni molto spesso non l'accettano mentre per quanto riguarda l'acquisizione quindi la volontà del direttore di dire quello è un artista che deve stare nella nostra collezione perché è un maestro storico ci manca filologicamente è corretto che ci sia da noi oppure dici questo secondo me a mio rischio e pericolo potrebbe essere un artista che sta facendo carriera e quindi diventerà un maestro un giorno quindi fai una sorta di investimento quindi o premi il giovane vedi il talento e cerchi di sostenerlo oppure confermi l'artista ed è a discrezione del direttore poi però il direttore esprime la propria volontà nel mio caso è l'assessorato alla cultura io devo informare ovviamente l'assessore e i dirigenti che avrei questa intenzione perché poi effettivamente sono loro che esplicano la burocrazia e fanno il pagamento non è che il museo è un'entità autonoma no ha sempre un referente che è il comune quindi le mie scelte vengono avallate insomma si fidano di me ho dimostrato che comunque il museo sta funzionando sia per qualità espositiva per ricerca per fruizione e quindi se io chiedo che venga acquisita un'opera ovviamente non è un'opera che viene acquisita al prezzo di mercato magari quello se lo possono permettere le fondazioni i privati le banche no? comprano nelle fiere ovviamente si anche lì con uno sconto da parte della galleria perché comunque fa gioco a tutti questa cosa però nel rapporto diretto con l'artista si fa un ragionamento diverso gli si dà un gettone che gli riconosce effettivamente che lui è bravo insomma è giusto non prenderli a strozzo perché si usa fare anche questo quindi si dà un quantitativo di soldi per avere in cambio un'opera l'artista ovviamente te lo dà volentieri a un costo inferiore perché finisce in una collezione pubblica fa curriculum è di prestigio ho risposto alla tua domanda? non è facilissimo però perché questa burocrazia cioè quindi non c'è un comitato io mi sono immaginato che c'era un comitato alla base quando i musei sono più grandi l'entità è molto più grande e quindi i sovvenzionamenti sono anche da enti privati o da enti bancari ovviamente c'è un comitato che decide che si confronta in questo caso l'entità è comunale quindi i referenti sono meno saremmo quattro persone che alla fine discutiamo è ovvio che io sono lo specialista loro invece hanno altre competenze altre domande? perché io inizio a essere un po' stanco avete domande un po' più pratiche volete delle informazioni più più dirette i segreti del mestiere è qualcuno? no immaginavo ti faccio dire ecco forse scusami tienila da parte un attimo perché stavo leggendo cosa significa ecco un direttore di museo non deve mai usare il potere che lui ha perché è un potere effimero cioè tu non puoi fare il bello e il cattivo tempo dire adesso io impongo solo questo tipo di arte e questi artisti qua non va bene non è corretto verso le arti visive nell'insieme sono tante sono diverse ognuna ha una ragione di essere tu non è che le puoi seguire tutte però comunque devi dare un servizio non dico di fare mostre che non ti piacciono però guardare anche cose che non sono vicine a te e confrontarti secondo me è giusto io nelle 40 mostre nei 40 progetti che faccio al museo a Lissone le condivido tutte ci metto la faccia ci metto il nome però anch'io ho alcune mostre che mi piacciono più di altre e di gustibus però questo non mi impone cioè non mi frena a fare altre cose lo ribadisco sempre è da stamattina che lo faccio se tu nel fare capisci nel fare comprendi ad esempio se io non mi sono mai cimentato con l'arte astratta ok perché magari non mi interessava ma c'è un'occasione bene proviamo a vedere capire una volta che ci sei dentro se sei fortunato questa cosa ti prende mancava l'occasione anche con gli artisti che io sto presentando negli ultimi anni mi sto anche molto storicizzando ultimamente perché seguo anch'io gli anni sessanta ed erano artisti che per ovvie ragioni non potevo fare erano maestri e quindi io non avevo le risorse per poterli invitare alle mie mostre adesso invece le gallerie mi chiamano e mi dicono ti piacerebbe fare questa cosa qua con quel tale artista sì certo però avevo un'infarinatura provvisamente le mie scrivanie si riempiono di volumi di libri che me li leggo tutti quanti ecco ho poco tempo per leggere i libri che vorrei di narrativa eccetera leggo solo ciò che è specifico alle mie competenze i saggi d'arte i manuali i cataloghi vorrei leggere altre cose non riesco a farlo ed è un lavoro di ricerca che mi appassiona molto sono anche molto topo di biblioteca in questo senso non mi piace improvvisare cosa faccio vado dal grande artista e non so esattamente qual è stato il suo percorso che cosa significano le loro opere mi sentirei in imbarazzo anche perché mi si sgama subito come si direbbe mi si guarda in faccia se non so una cosa vedi che sono un po' attonito io infatti dico no guarda questa cosa io non la so la dico molto schiettamente anche perché non si può sapere tutto insomma io ho iniziato molto presto ho fatto una lunghissima gavetta ma alla fine la continuo a fare non si smette mai di fare la gavetta qualche soldo in più c'è non è che me la passo male certo però volevi farmi una domanda sì allora una domanda è innanzitutto se hai dei collaboratori e se li scegli tu sì ho dei collaboratori no non li scelgo io e volevo sapere tra questi siccome spesso si sente parlare di questi bandi di questi ecco c'è un collaboratore che si occupa della partecipazione a eventuali bandi concorsi per vincere che so delle sovvenzioni delle ecco in questo senso sì sì abbiamo degli esterni che vengono pagati per informarci quando escono questi bandi europei come si fa a partecipare perché poi anche lì in grandissima burocrazia devi esattamente sapere a quali voci puoi concorrere con quali proposte e c'è sempre un modo per acquisire punteggio e per avere più opportunità insomma di concorrere all'assegnazione dei soldi non lo possiamo fare noi a parte che ruba tantissimo tempo e poi non abbiamo le competenze sono molto tecnici quei bandi quindi deve avere una persona che fa quel lavoro lì io faccio tanti altri lavori comunque anche i direttori di museo ma lo si è verificato anche quando c'era Pietro Marchi al Padiglione Italia insomma si cercano anche i soldi per fare le mostre quindi tu spendi tempo a telefonare a inviare email che poi non portano a nulla però non ti puoi basare solo su quello che ti viene fornito da contratto ecco se tu sei ambizioso e se tu non vuoi essere frenato comunque ti devi dare una mossa almeno fai il tentativo ci provi poi non porta niente però almeno sai che non hai lasciato nulla di intentato è un lavoro che non stacchi mai ti svegli alla mattina e arrivi a sera e hai giusto il tempo di mangiare a dormire perché poi anche se sei a casa comunque il cervello è sempre su quella cosa lì io non stacco mai credo è molto probabile che fra un paio d'anni andrò in esaurimento nervoso perché non si è solo direttore del museo si è anche docente si è responsabile di dipartimento e nel frattempo oltre che alle mostre del museo ho altre mostre in altri spazi pubblici ma anche in spazi privati poi comunque c'è il rapporto con gli artisti anche quello alla fine è un lavoro insomma perché andare a trovare fare le ricerche e tutto devi appassionarti se non è il fuoco sacro è inutile secondo me scusa mi sto anche un po' deprimendo no 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 felicità hai detto che devi impazzire meglio di no no perché non so dicendo così sembra che mi faccio l'autoelogio in realtà ci sono un sacco di persone noi sappiamo conosciamo il tuo lavoro e dicevo questi collaboratori sono nominati tramite un bando per esempio facciamo un esempio mentre venivamo io e Angelo Angelo mi diceva perché c'è uno spazio grande a Gioia del Colle perché non manca un museo quasi quasi facciamo un museo no allora metti eh lui la fa facile perché si fa per parlare in realtà ecco in realtà il museo non poi prevede comunque dei bandi di concorso pubblici no se vuoi finanziamento pubblico altrimenti non è più un museo vabbè lì ha anche una questione politica cioè adesso va molto la trasparenza tutto viene fatto attraverso bandi per correttezza questi bandi vengono poi pubblicati si pubblicano i risultati perché così qualcuno può anche contestarli è ovvio siamo umani l'errore ci può stare cioè se uno arriva prima piuttosto di un altro qual è la differenza perché è successo questo l'errore umano ci sta per cui è anche giusto che magari qualcuno si possa rivalere è ovvio che si sta cercando di non fare questi errori perché poi se no non si riesce ad andare avanti insomma ci sono quelli che si impuntano non era giusto questa cosa qui vabbè però si è stato valutato da delle persone autorevoli che si presume insomma sappiano fare il loro lavoro i collaboratori che io ho sono di due tipi quelli che potremmo chiamare a progetto o a tempo determinato che durano un anno e sono attraverso bando gli si chiede appunto una competenza varia nel senso che sì sono deputati ad accogliere il pubblico aiutano negli allestimenti ma poi fanno anche le visite guidate anche lì si è un po' factotum è naturale che succeda questo insomma perché non si può avere una persona che fa solo le visite guidate solo gli allestimenti è inconcepibile adesso per un'entità media piccola poi ci sono altre persone che invece sono impiegati comunali quindi non hanno una specificità una qualifica che tu dici tu vai in biblioteca o vai al museo o vai in un altro posto perché tu hai fatto delle scuole tali che ti permettono di essere in quel in quell'istituto piuttosto che un altro sono figure comunali e quindi ruotano cambiano vengono messe lì magari uno va in pensione viene sostituito da un altro che può non conoscere la realtà in cui deve lavorare ed è faticoso anche lì speri sempre che la persona si appassioni al luogo in cui lavora se questo non succede diventa complicato per cui tu che io pur essendo un esterno perché io non sono dipendente del comune ok io ho un contratto di lavoro con loro ma figuro come alla fine come un consulente che gestisce una struttura museale allora da parte mia ovviamente credo mi piace questo lavoro ci dedico anche più del tempo che in realtà avrei da contratto se io mi basassi solo da contratto probabilmente non farei tutta l'attività espositiva e didattica eccetera però dici ho questo gioiellino facciamolo funzionare divertiamoci nonostante le difficoltà e quindi tu veramente investi tutta la tua passione le energie se poi trovi una persona che in realtà non gliene frega nulla potrebbe essere al cimitero come al museo e non è in grado di fare nulla questo un po' ti disinnamora di quello che stai facendo perché è comunque una una palla al piede che devi trascinare ma sappiamo benissimo insomma se giriamo nei musei in Italia abbiamo questi custodi che ti ricevono tu gli chiedi gli fai una domanda specifica e ti guardano con questi occhi che non sanno che cosa risponderti tipo è come se tu andassi al museo al Louvre scusi dove è la Gioconda oddio forse di là c'era una persona sorridente no capita spesso insomma non hanno idea cioè stanno lì stanno lì controllano non si sa esattamente che cosa per cui insomma ci sono i pro e i contro di questo lavoro ma perché mi fai tutte queste domande tecniche sì per questo no adesso la prossima domanda è come un artista emergente può interfacciarsi con le attività museali allora deve essere molto giovane quindi sei fuori target allora poi l'avevo già detto questa cosa però va bene possiamo scusate volevo recuperare delle immagini vediamo un po' no non queste magari come si è voluto affacciare un giovane artista ha detto la domanda che era proposta dalla schermata lo stesso vale per quanto detto prima ovvero sia se c'è qualcuno che fa da filtro è positivo per la mia esperienza però succede anche che qualcuno mi chiami si presenti venga al museo chieda di me se sono libero lo ricevo guardo il portofolio non è un problema gli dico che cosa penso se effettivamente il suo lavoro è maturo si può prospettare la possibilità di una collaborazione non c'è una formula non c'è una formula vera il direttore barra curatore va in giro ovviamente sempre curioso verso la novità chiede ma ci sono giovani che stanno andando curiosi eccetera quindi poi gli arrivano le voci o sulle riviste sfogliando così velocissimamente gli cade l'occhio e dice guarda questo non lo conoscevo mi informo vado su google e faccio le mie ricerche molto spesso succede così poi c'è anche il rapporto diretto che si autopropongono insomma non c'è niente di male in questo è ovvio che non è che si può dare retta a tutti anche questo è un altro lavoro che non abbiamo il tempo di fare amici mi dicono Alberto quando sei direttore di museo te la tiri perché a Milano si dice te la tiri probabilmente anche qua non è vero se tu non sei direttore di un museo non ti rendi conto quando io ero all'accademia a Bologna e andavo a trovare Walter Guadagnini a Modena o altri amici che dicevano sono distrutto non ho mai tempo e io dicevo come non ho mai tempo dai mi sembra assurda questa cosa qua ma effettivamente è vero cioè tu non fra un po' non ho più vita sociale perché sto sempre o fuori o all'interno del museo non ci sto mai a casa pago l'affitto lì sono sono un contribuente ma alla fine potrei tranquillamente dormire al museo io vengo assorbito da questa cosa vorrei fare mille cose avrei mille idee però il corpo è uno la resistenza è quella sono anche molto dimagrito devo dire che uno dei vantaggi di questa professione è che dimagrisci volevo farvi vedere qualcosa sull'aspetto del curatore se c'è ancora un po' di tempo adesso siamo lì sì adesso ecco allora curatore si trova un'opera in mano poniamo una scultura per semplificare no una scultura bisogna collocarla nello spazio i basamenti erano stati aboliti nel novecento a un certo punto la scultura vive senza più il piedistallo come il monumento che non ha più il piedistallo non serve più non è più funzionale adesso è tornato il basamento sotto altre forme perché è diventato parte integrante dell'opera però se tu ti trovi questa scultura che devi appoggiare da qualche parte perché non la puoi magari mettere a terra perché si perde eccetera allora abbiamo il cubo bianco che è una prassi che non sbagli vai sul sicuro ci sta però è la cosa più facile che puoi fare il curatore dovrebbe andare oltre il cubo bianco può essere anche di questo tipo vanno molto di moda adesso questi perimetri del parallelepipedo scavati al centro qui la mostra di Samori che avevamo fatto al museo di Lissone questi plinti di cemento armato pesantissimi però li aveva fatti anche perché la vedete qua in questo spazio con la parete curva c'era una colonna quindi tutti questi altri basamenti cilindrici riprendevano l'andamento della colonna e quindi era ragionare sullo spazio oltre che dare un'identità proprio a queste teste che così hanno un peso all'interno dello spazio qui invece aveva qui fortunatamente Nicola Samori è un egregio artista che se pensa a una mostra è preciso si fa lo studio la maquette in tre dimensioni la riproduzione delle proprie opere da collocare continua a spostarla eccetera quindi quando lui arriva ti sottopone già un progetto che è a prova di bomba magari gli puoi dire guarda possiamo fare questa inversione però lì veramente fossero tutti gli artisti così si farebbero le mostre con gran facilità poi vabbè mi aveva chiesto di dipingergli tutta una parete con questo azzurro un azzurro un po' antico che sembra rievocare i vecchi musei magari di qualche secolo fa insomma un museo d'arte antica e questi invece ad esempio sono dei basamenti sono dell'ottocento forse del settecento vabbè basamenti ligni che erano al museo di bagnacavallo lui se li è fatti prestare e quindi li ha utilizzati per collocare delle sculture realizzate da lui è il caso di queste due ma altre avevano delle sculture di paolo visani erano dei gessi veri e autentici di questo scultore ottocentesco quindi c'era anche qua una mostra che però ragionava sull'idea del museo non un museo di arte antica di arte contemporanea ma di arte antica con opere sue ma anche un'incursione di artisti che lui ha stimato ha apprezzato su cui ha lavorato perché questo e questo si riprendono ovviamente la trasmigrazione della forma e poi questo gioco che lì nasce anche da una suggestione che avevo avuto io all'inizio del mio mandato che avevo queste micro mostre dove prendevo un'opera della collezione storica di solito erano dei quadri e frontale collocavo una scultura magari di Paolo Grassino o di Aaron Demetz o di Nicola Bolla quindi era una micro mostra fatta di solo due opere che avevo intitolato la scultura guarda la pittura ed erano di solito sculture a dimensione reale quindi sono sculture figurative poi quindi erano o persone o animali come nel caso di Nicola Bolla era un pappagallo che guardava un quadro di Valerio Adami lì era una mostra fatta per le opere non era fatta per i visitatori non era fatta per gli artisti era fatta proprio perché le opere si dovevano guardare ovviamente più che altro era la scultura che guardava il dipinto Nicola un po' gli era piaciuta questa cosa e anche lui ha messo questi questi busti che guardano le sue opere però mi interessava arrivare su questa cosa del basamento prossima immagine eccoci allora questa è una mostra di un carissimo amico che è Fabrizio Prevedello una mostra credo tuttora in corso alla Spezia al museo di cui ho parlato prima una mostra che se io non conoscessi Fabrizio direi che questo è un maestro perché è una mostra impeccabile erano tre sale ogni sala aveva un'identità specifica ma tutto era armonico ok tranne un elemento perché poi quando le mostre sono così perfette ti nervosisci cerchi il pelo nell'uovo perché poi l'artista ti chiede ma come ti è sembrato cosa avresti fatto o come l'avresti vista tu allora lì proprio dispremi le meningi per capire che cosa si poteva fare di diverso che non è trovare l'errore però valorizzare ancora di più quello che è Gregio e in quest'ultima era la terza sala quella di conclusione è una cosa che ho detto anche a Fabrizio non è che adesso lo dico perché lui non c'è assolutamente poi era intracciabile questa cosa però gli feci notare era tutto intenzionale lui aveva recuperato dei basamenti dai magazzini del museo perché doveva costruire una parete che adesso qui non vedete che si trova dovrebbe trovarsi in fondo a sinistra perché aveva un ingresso molto ampio e lui invece voleva creare un'apertura per una singola persona sia all'inizio che alla fine della mostra voleva insomma che la fruizione fosse comunque non di grandi masse uno doveva girare in questo percorso che era un labirinto dissimilato di installazioni di sculture eccetera quindi il rapporto era uno a uno cioè pubblico e opera se il pubblico si affastellava si accavallava insomma veniva meno questa suggestione che lui voleva dare e quindi aveva stretto questi ingressi e poi aveva questo blocco di marmo uno scarto dalle cave di Carrar l'aveva trovato e l'ha prelevato tale e quale non l'ha lavorato esternamente ma internamente facendo dei furi dei fori e saldando un oggetto che è poco visibile all'interno quindi ha ragionato in modo inverso rispetto alla scultura e quindi l'opera sostanzialmente era questo blocco di marmo e l'aveva appoggiato su uno dei basamenti che aveva trovato lì l'aveva un attimo ripulito neanche troppo perché voleva far vedere che comunque era un basamento recuperato e io dissi ma sai questa cosa qua può andar bene lo spazio è bianco è pulito basamento bianco anche lì corretto questa parola un po' sconveniente funziona corretto funziona ok si poteva fare qualcosa di diverso io gli ho detto ma Fabrizio e se invece di avere il solito basamento bianco no? che ormai è un retaggio passato scartavetrare quel bianco? quindi qui è una scultura appoggiata su un basamento se noi lo scartavetravamo diventava un'opera tutto cioè erano tre sale installative ok tranne questa era un'opera che si inseriva nell'ambiente da un punto di vista concettuale tutto filava ma forse questa si scostava dalle altre sale proprio perché era una sorta di isola un'isola estetica come l'avrebbe chiamata Gasset l'effetto che lui poteva ottenere era sostanzialmente questo questo era un basamento che avevamo utilizzato io e fatto perché avevamo bisogno di proiettare queste diapositive in un ambiente buio ma la galleria non aveva nicchie allora abbiamo preso questo basamento l'abbiamo appeso a parete però non ci piaceva abbiamo deciso di scartavetrarlo qui è ovvio che diventava un'installazione ma è sempre stata una una situazione improvvisata non è che siamo arrivati in galleria dai allora attacchiamo il basamento a a parete no l'allestimento quindi l'artista il curatore quando si trovano ad allestire l'allestimento è un laboratorio un laboratorio che lievita anche la mostra di Samori tu puoi essere bravissimo a ragionare su carta ok progetto su carta con le planimetrie le misure ok però poi magari mettendo le opere lì dove le avevi pensate ti rendi conto che c'è qualcosa l'armonia la sinfonia stona e quindi lì ecco sei bravo tu a capire che cos'è che non quadra io mi ricordo certe mostre certe mostre io le allestisco quattro volte perché le imposto le riguardo e dico ma no questa cosa non mi piace poi le faccio girare inizia a tornarmi qualcosa però non sono ancora soddisfatto perdo tantissime ore a cercare di capire come far dialogare le opere fra di loro perché poi è divertente questa cosa del mescolare le discipline fare mostre di sola pittura sola scultura si può fare però è bello quando l'arte è come la coda del pavone quando è tutta fuori è meravigliosa quando il pavone ha la coda normale è un uccellaccio è brutto da vedersi e anche lì ad esempio si tende sempre a fare mostre di sola pittura sembra ghettizzare le mostre di sole artiste donne che è un'altra cosa che secondo me è brutta perché non devi fare questa cosa qua l'artista donna ha bisogno di avere le mostre solo al femminile no non c'è più quella disparità di sessi anzi molto spesso capita che magari l'artista donna è più agevolata adesso di tanti artisti uomini e quindi fare ghettizzare dicevo la pittura in queste mostre nel senso la pittura se è tale emerge quando è confronto anche con l'installazione con il concettuale tutti quegli artisti pseudo-IKEA che fanno queste installazioni effimere il pezzettino appunto la mensolina il quadrettino il pezzo di scotch il segno ruffiano fatto a parete l'oggettino a terra il pseudo ready made tutto tutto molto precisino eccetera poi magari il quadro questo retaggio ormai obsoleto in realtà è molto più forte certi pittori hanno una personalità veramente importante rispetto a tanta arte che noi vediamo però ecco se tu non metti mai la pittura vicino alle altre discipline non ti rendi mai conto della supremazia che può avere ancora oggi la pittura la Deip è scontata ah sì è la solita pittura sì certo se lo vedi in una mostra dove ci sono solo quadri poi anche la pittura è declinabile in tantissimi modi l'ultimo premio Lissone per la pittura fatto l'anno scorso perché è diventato biennale in quanto si alterna al premio di design ho allargato alla pittura espansa quindi potevano partecipare sempre artisti under 35 perché era una decisione decisa presa dal precedente direttore in accordo con l'assessore che quindi è una scelta che io ereditato e ho deciso di aprire anche ad altre forme espressive quindi c'erano opere fotografiche installative che però tutti avevano l'idea della pittura ovvio che in quel bando arrivò di tutto e di più gente che faceva dei video in stop motion altri che proponevano sculture pensavano che potesse passare qualsiasi cosa no ci doveva comunque essere l'idea della pittura perché la pittura non è solo l'olio su tela può essere tantissime cose può essere può essere il quadro bianco può essere dipingere direttamente il wall painting la colatura a pavimento può essere anche un blocco di marmo con le stratificazioni geologiche con diversi colori può essere tante cose la pittura la pittura è uno stato mentale non lo dico io lo diceva ovviamente qualcuno più importante di me e comunque è stato positivo comunque aprire alla pittura espansa quel premio va bene ci congediamo perfetto grazie mille se scusate inizio ad essere un po' stanco in realtà adesso vi canto una canzone avrei voluto farvi vedere anche qualche catalogo però non c'è più tempo puoi cantare no ma ti occupi anche del premio ora sì ma sei informatissima io non amo molto il premio però io in realtà volevo capire poi se la voglia sarà meglio questo è un fuori onda è un fuori onda sì sì noi abbiamo finito adesso si fa per parlare fra di noi grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille